scuole crescono i licei arrancano i professionali tasse pendenti a pesero nessuno stralcio lavoro nero e fumo nel locale maximulta ad una discoteca segnalazioni in marcia piedi disastrati in attesa di risposta dopo tre anni torna il carnevale di villa fastigi buonasera buonasera a tutti voi amiche amici di rossini tv ben ritrovati al nostro telegiornale rossini news prima edizione di questo mese di febbraio tg di mercoledì primo febbraio che apriamo con questa che è una data particolare per le scuole superiori perché da ieri si ha in mano in pratica la demografia scolastica per quello che riguarda l'anno didattico 2023 2024 alla luce della chiusura delle iscrizioni online di ieri abbiamo fatto un giro di pareri fra gli istituti pesaresi per capire quali sono gli istituti che crescono e quali invece quelli che arrancano varcato febbraio gli istituti superiori entrano in possesso del quadro delle iscrizioni alle classi prime per il 2023 2024 a pesero la tendenza rispecchia un andamento nazionale con i licei scelti dal 57 per cento dei neo iscritti con relativa fatica degli istituti tecnici al 31 per cento e calo degli indirizzi professionali al 13 per cento questa la valutazione di riccardo rossini che il presidente dell'associazione presidi marchigiani nonché passato dalla guida di un liceo come il marconi ad un istituto agrario come il cecchi c'è una grande esigenza da parte del mercato del lavoro di professionisti di lavoratori specializzati che dovrebbero uscire dai professionali perché le imprese hanno veramente fame di questi lavoratori e purtroppo ne abbiamo sempre meno ne abbiamo sempre meno perché non si iscrivono perché non percepiscono il professionale come un percorso che gli insegna un lavoro e quindi dovremmo forse fare qualcosa probabilmente modificare il curriculum modificare i piani di studio cercare di investire nei laboratori calano i professionali ma con fatica l'alberghiero santa marta resta in linea di galleggiamento nonostante a livello nazionale c'è un calo quasi dell'1 per cento noi siamo riusciti a mantenere anche forse poi anche qualche cosina in più rispetto all'anno scorso per cui da quel punto di vista sono molto soddisfatto però siamo sempre sotto rispetto alla richiesta per le associazioni di categoria soprattutto agli albergatori e i ristoratori hanno bisogno insomma di personale qualificato che si può trovare solo secondo me negli istituti alberghieri quindi a fronte di una grande offerta c'è poca c'è pochi pochi studenti che decidono di affrontare studi in questo in questo settore. Dati di iscrizione valutati con amarezza anche da un istituto tecnico come Lipsia Benelli. Quest'anno diciamo che siamo rimasti sui numeri dell'anno scorso ma l'anno scorso eravamo già diminuiti quindi non è soddisfacente noi speravamo in una inversione di tendenza cioè che questa curva discendente ritornasse a salire come lo era quasi non dico niente ma almeno prima del covid. Questa tendenza alla licenizzazione aumenta sempre di più nonostante che si facciano tanti discorsi sui bisogni del territorio, sul discorso di determinate professionalità che mancano e mancano sempre di più. Si suscita entusiasmo nel momento in cui ci si propone. Il problema è che poi quando anche vengono all'open day sono venuti tanti interessati a vedere la scuola però poi si raccoglie poco insomma. Il trend durante l'anno cioè dalle iscrizioni in poi fino all'inizio dell'anno scorso successivo o anche dopo poi invece è sempre in salita perché mano a mano poi le persone cambiano idea, iniziano la scuola magari e poi vogliono cambiare. Dopo lì abbiamo l'esplosione, quest'anno abbiamo avuto più di 100 alunni che appunto hanno cambiato indirizzo di scuola da liceo o altri indirizzi per iscriversi da noi. È sempre lì il problema, poi l'organico si fa con i dati delle iscrizioni di gennaio, poi non abbiamo appunto quindi le classi in cui ospitarli e quindi poi capisce che dopo di noi c'è la dispersione, nel senso che gli alunni non sanno più, una volta sbagliata la scelta non sanno più cosa fare. Rovescio della medaglia, licei che non arrestano la loro crescita. I comprensivi confermano un numero analogo a quello del scorso anno, un migliore crescita, quindi ci fa piacere. La distribuzione è probabilmente leggermente diversa, abbiamo un aumento di un mare classico che probabilmente riusciremo a fare prima, in solito non portiamo due e poi adesso vedremo, però confermo le cose. I licei tengono, non so se sia un bene o male, però le cose vanno avanti con questa tendenza. La nuova legge di bilancio del governo Meloni dà la facoltà ai comuni di stralciare le cartelle esattoriali pendenti precedenti al 2015. Pesaro in questo caso va controcorrente, nessun condono e piuttosto si procede con le riscossioni. Nessun condono a Pesaro per le tasse comunali non pagate sotto i 1.000 euro. Il sindaco Matteo Ricci va controcorrente allo stralcio avanzato dal governo Meloni che attraverso la legge di bilancio 2023 prevede che le multe non pagate, così come le tasse pendenti ai comuni, come IMU o Tari fino al 2015, vengano rottamate in assenza di una delibera in senso contrario. La giunta Ricci però è andata controcorrente proprio nell'ultimo consiglio comunale, esternando il fatto che non ci sarà nessun condono. Fino al 2013 il tema era di competenza di Equitalia, mentre a Pesaro nel 2014-2015 la riscossione è passata ad Aspes che, solo per il bienio in questione, sarà incaricata di recuperare 8.800 cartelle esattoriali per un ammontare di 1.600.000 euro. Una voce che riguarda soprattutto gli interessi morosi. Il tema ha acceso la discussione in consiglio comunale con il centrodestra che l'ha giudicata, una scelta che costerà più in spese di riscossione rispetto ai tributi che saranno effettivamente recuperati. Tema tributi sul quale il Comune ritiene però di aver già teso una mano fra bonus Tari e agevolazione sul caro Bollette. Per i quasi 9.000 amorosi, Aspes procederà prima con una lettera d'avviso per poi passare a ingiunzioni di pagamento. Ed ora passiamo alla cronaca. Fra la scoperta di lavoratori in nero e anche di clienti che fumavano all'interno del locale è scattata una maxi multa per una discoteca del Fanese. Scoperti due lavoratori in nero, falle nella sicurezza sul luogo di impiego e cinque giovani clienti colti sul fatto mentre fumavano all'interno della discoteca. Nei guai un locale da ballo del Fanese che domenica è stato oggetto di un controllo congiunto dei carabinieri della compagna di Fano, del nucleo ispettorato al lavoro di Pesaro e del nucleo antisofisticazione e sanità di Ancona. Nell'occasione il gestore della discoteca è stato sanzionato con multe per circa 15.000 euro. Innanzitutto nell'ambito della sicurezza sul lavoro dove si è accertata la presenza di due lavoratori sprovvisti di regolare rassunzione. Nel locale pieno di gente si sono notati anche clienti che fumavano all'interno. Cinque di questi sono stati multati con sanzione amministrativa pecuniaria che la norma punisce con ammende che vanno dai 27 ai 275 euro. Una serie di illeciti che ha portato alla sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni a norma di legge. Parliamo di scogliere, un tema quanto mai attuale alla luce delle mareggiate dell'ultima settimana. La regione Marche attraverso l'assessore Stefano Guzzi ha annunciato oggi i primi 10 interventi per 40 milioni di euro che attingono al Feser Marche 2021-2027 e al PNRR. Tre gli interventi previsti nella provincia di Pesaro Urbino, a cominciare dal completamento della scogliera di Castel di Mezzo per 250 mila euro, gli interventi di difesa di Costa Sassonia a sud dal fiume Metauro al Porto per 275 mila euro e le opere di difesa costiera a sud della foce del Metauro per 4 milioni di euro. Restiamo in tema di tutela del territorio perché è stato anche finanziato il primo stralcio dei lavori di messa in sicurezza del Fosso Taccone a Montecchio per un importo di ben 900 mila euro. Il comune di Vallefoglia chiarisce che l'attuazione dell'intervento è stata affidata al commissario di governo e la regione ha ricondotto le competenze al comune di Vallefoglia, un comune che ha deciso di avvalersi del consorzio di bonifica delle marche per la realizzazione di lavori che ha già redatto in un progetto di intervento sull'intero tratto che comporterà una spesa di 3 milioni di euro. Lavori di protezione del territorio anche a Marotta dove si sta procedendo al nuovo canale di raccolta delle acque meteoriche di via Corfu e di via Chienti. È stata ripristinata la viabilità sul lungomare e si procede con il cantiere di un'opera reputata fondamentale dal comune per la salvaguarda delle alluvioni in zona Marotta Nord. E ora invece vi mostriamo alcune immagini che arrivano dal Monte Catra innevato di questi giorni che dopo il soldao dello scorso weekend domani giovedì 2 febbraio riapre i battenti con gli impianti di risalita per accedere ai 12 chilometri di pista raggiungibili dalla cabinovia di frontone. In funzione anche la scuola sci, la possibilità di ciaspolate guidate e naturalmente il rifugio Cotaline. Catra è aperto agli sport invernali fino a domenica e nella giornata di domani saremo presenti anche noi con le nostre telecamere per uno speciale che vi mostreremo nei nostri prossimi spazi informativi. Ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni che come sempre vi invitiamo a inviarci al numero whatsapp dedicato che vedete in grafica 370-366-7210. Segnalazioni che ci riportano a Pesaro dove abbiamo risposto alla richiesta di alcuni residenti di Pantano che hanno chiesto l'aiuto di Rossini TV per risolvere una problematica fin qui inascoltata. Ci troviamo nel quartiere Pantano di Pesaro per rispondere alla segnalazione di alcuni condomini dello stabile di via Mancini 6 ad angolo con via Titosperi, marciapiede di via Titosperi che è palesemente dissestato, una struttura di passaggio che crea diverse problematiche. Come condominio sareste anche disposti a intervenire in quanto questa struttura è privata ad uso pubblico ma avete un po' le mani legate? Certo, noi eravamo d'accordo a sanare la parte superiore dove ci sono le buche praticamente però la parte sottostante è di proprietà del comune quindi anche volendo intervenire abbiamo un po' le mani legate nel senso che interveniamo su una proprietà che non è nostra perché la parte nostra è solo sopra. Io mi sono decisa a intervenire perché proprio ieri sera è caduta una signora, fortunatamente non si è fatta niente però non possiamo aspettare che succeda qualche guaio grosso perché il marciapiede è veramente disastrato. Aspettiamo una risposta dal comune, l'amministratore ha scritto nel 2021 però sembra che non ci sia stata una risposta da parte del comune perché abbiamo chiesto di intervenire anche come spesa perché è di proprietà del 50% del comune ma non abbiamo avuto risposta. E dunque è iniziato febbraio, mese per antonomasia del carnevale e fra le feste sempre partecipate anche quella del carnevale di Villa Fastigie che torna dopo tre anni di stop. Il nostro Edoardo Razzi oggi ha fatto un sopralluogo nei laboratori dove si creano i carri carnevaleschi. Coriandoli e dolciumi ma soprattutto maschere e carri artigianali. Erano tre anni che il paese di Villa Fastigie attendeva con ansia questo momento. Dopo l'ultima edizione apparsa nel 2019 il quartiere pesarese torna domenica 26 febbraio a colorarsi di festa ed entusiasmo con un appuntamento ormai diventato tradizione. Il carnevale di Villa Fastigie ha origine negli anni 80 con numerosi collaboratori che nel tempo sono entrati a far parte del comitato della carnevalesca che raggruppa ad oggi circa 15 compaesani ma che per il successo finale della manifestazione godono anche del sostegno sia fisico di una cinquantina di persone che economico da parte di abitanti e attività commerciali. Andiamo avanti con le offerte e l'aiuto che ci dà un po' il comune, un po' il quartiere, queste cose qui e i sponsor, i sostenitori più che sponsor, i negozi perché non hanno bisogno nel paese però ci aiutano comunque. La sfilata del carnevale di Villa Fastigi parterà alle 15 da Via Fratelli Cervi per poi proseguire per tutto il paese compiendo il giro ben due volte. A prendersi la scena saranno il trenino dei bambini della scuola materna, due carri ospitati e quattro carri allegorici pitturati e decorati per l'occasione dove ognuno raffigura una tematica diversa. Quest'anno i carri sono uno sulla primavera, uno è così un'idea nuova sul Babbo Natale, il titolo sarà Semarivet Lunghi nel senso Bucato, l'altro è sull'inquinamento, il caro petrolio, i temi attuali quelli lì e uno è sugli sport, su di Pesaro, la musica. Sui carri sale chi lavora i carri, i genitori, i figli, i nipoti, no? Noi vogliamo chi aiuta a preparare il cartemale può salire sul carri. Magari vengono, non come noi che siamo patiti, veniamo magari tutte le settimane, anche se vengono qualche volta, però dopo il figlio può salire sul carri. Carri maestosi che verranno guardati dai pesaresi anche come una miniera d'oro di dolciumi, numerosi infatti quintali di cioccolatini e merendine già ordinati. Noi stiamo ordinando cinque quintali di caramelle, ordinati, i boieri saranno 60 scatoloni di boieri, patatine, un po' di tutto, vediamo, cerchiamo di, noi quello che raccogliamo spendiamo. E anche a Pesaro arriva questo venerdì 3 febbraio al Cinema Loretto alle ore 21.15 l'ultimo spettacolo del San Costanzo Show dal titolo Somari di battaglia. Inutile dire che le risate saranno garantite. Non vedo l'ora di andare in scena con i cavalli di battaglia del San Costanzo Show. Ma non è cavalli, è somari di battaglia. E le più grandi risate della storia del San Costanzo Show! Ragazzi, ma non fa ridere! Il titolo è terribile! No, no, è bruttissimo! No, no, è bruttissimo! E risate assicurate con gli amici del San Costanzo Show, gioia invece sfrenata ieri sera per i tifosi della Vispesero, che nel turno infrasettimanale hanno visto i biancorossi battere la Torres al Benelli per 2-1 con una galvanizzante rimonta dallo 0-1 sardo realizzato al sedicesimo di Achite su contestato calcio di rigore. Ricordiamo che la Vis ha pareggiato al 39esimo con Baccaiocò su calcio d'angolo e ha vinto al 92esimo con rete di Gavazzi sugli sviluppi di calcio di punizione. Vis che con questa vittoria esce dagli ultimi cinque posti play-out. E con questa notizia di sport chiudiamo questa edizione delle telegiornale Rossini News. Come di consueto, prima dei saluti, alcuni appuntamenti sul nostro canale 80. Cominciamo parlando di tematiche legate al commercio e al turismo, questa sera alle 21.20 con approfondimento sulle tematiche di confcommercio Marche Nord in compagnia del direttore Amerigo Varotti, intervistato nell'occasione dal nostro Antonio Astuti. Poi l'informazione su Rossini TV che torna puntuale domattina alle 7.20 come sempre in diretta con la rassegna stampa dei quotidiani locali. Buongiorno Rossini, condotta dalla nostra direttrice Emanuela Rossi. E facciamo anche un passo avanti a domani sera, il giovedì, e la serata di Insieme a Canestro, come tutti i giovedì, in diretta alle 21.20, programma condotto come sempre dal nostro Marco Cadeddu con la possibilità di interazione in diretta via WhatsApp di voi tifosi con domande da porre ai nostri ospiti al numero che vedete in grafica 370-366-7210. Ospiti e opinionisti in questo giovedì, il commentatore Michele Zavagnini e il giornalista Marco Bedinotti. Ed è davvero tutto per questa sera, si chiude qua Rossini News, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi.